Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo la sala operatoria, verso le 9.30-10 arrivò un vassoio pieno di cornetti da parte del marito di una paziente che doveva entrare in sala operatoria. Ovviamente distribuimmo e mangiamo tutti i infermieri, i ausiliari, i colleghi della sala operatoria. Quella era una forma di garanzia personale, di giutela per la moglie, voleva evitare che tutta l'equip... Quando qualche paziente mi invia, dopo una mia prestazione, ripeto, gratuita, mi invia una pianta, io che faccio? La mando indietro. Ma anche per quanto riguarda la lattina dell'olio. Ma vedete, c'è anche un aspetto psicologico. Diciamo che un omaggio significativo, ma simbolico, voglio dire, modesto nella sua espressione. Io dovessi mandarlo indietro alla paziente. Che cosa potrà pensare quella paziente? Due cose. O non l'ha gradito, perché io non sono niente e quindi non mi considera manco. Oppure è troppo poco. Mi sono sbagliato, dovevo mandargli chissà che cosa. Il parallelismo però, Presidente, non si può fare nella sua investe di medico, nelle prestazioni sanitarie, ma il parallelismo con il Sindaco Emiliano, semmai, lo dovremmo fare nello suo ruolo di Presidente della provincia di Bari. Però, voglio dire, sgombriamo il campo dei dubbi di chi possa pensare che Bari sia guidata veramente da un Sindaco che si faccia comprare per un po' di cozze e ossiche. Su questo credo che tutti siamo d'accordo, assolutamente. Ma non credo che si faccia comprare manco. Assolutamente. No, 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 infatti. Questo credo che sia bene. Cerchiamo di essere delle persone seri. No, questo credo sia un principio che è bene sottolineare. Cerchiamo di interessarci dei problemi della gente. Ecco, quando si parla di problemi della gente non si può non parlare, continuiamo più o meno sulla stessa linea, non si può non parlare di quello che sta accadendo a livello politico, perché per esempio già oggi leggevamo sui giornali che c'è stato, noi abbiamo ospitato anche un'intervista del segretario regionale del PD Sergio Blasi che parla di un congelamento della candidatura di Emiliano alle regionali, di un progetto di lista civica nazionale che in questo momento diciamo sembra tramontata quando fino a qualche giorno fa leggevamo invece del Sindaco Emiliano come naturale candidato alle regionali. questo che cosa può cambiare nel panorama, nelle caselle degli eventuali candidati per i post? Non sappiamo quando, però per quello che può accadere nel futuro prossimo. Ma guardi, intanto sto imparando che la politica in effetti è dinamica. Poi da ora fino alla fine del mandato, alle nuove elezioni, sa quant'acqua scorderà sotto i ponti, quante situazioni cambieranno, muteranno, perché è cambiato proprio il clima politico, non c'è rispetto, sono saltate le regole, non c'è lealtà, c'è molta ipocrisia. Questo è un mondo che non mi appartiene, io posso già dirlo, non mi presenterò né al comune di Bari né alla regione Puglia, perché dedicherò il tempo che mi resta alla professione, sempre, e poi alla famiglia che ho trascurato. Ecco, però non possiamo non sottolineare nelle sue parole un cambio di rotta rispetto a qualche tempo fa, in cui lei ha sempre detto, non mi ricandiderò la guida della provincia di Bari, anche perché nel 2014 dovrebbero essere abolite le province, però non ha mai escluso l'ipotesi di potersi candidare alla regione Puglia. Se l'ambiente è questo, io spingerò i miei collaboratori, i miei giovani, coloro che credono nel mio movimento ad andare avanti, farò, tra virgolette, da parte reputativa, da regista, saranno loro, l'espressione nuova, il volto nuovo, le forze nuove, ad andare avanti. Ma dobbiamo cercare di cambiare questa politica che non risponde alle esigenze della gente, che è di una ipocrisia, guardate, davvero inaudita, impensabile, inimmaginabile, va al di là dell'immaginazione, e noi siamo responsabili di un esempio estremamente dannoso per il Paese. Se voi considerate che nei comuni dove si andrà a votare fra poco ci sarà la lenzuolata dei partiti, delle liste civiche, delle combinazioni, degli accordi trasversali, parliamo di 20-25 liste nei comuni della provincia di Bari, 20-25 rappresentazioni, ma già accordate, non c'è più quel senso della libertà democratica e di partecipazione attiva, c'è l'inganno. Allora, Presidente, ci risparmi i sforzi di immaginazione profonda, e ci lumini invece su che cosa è accaduto, perché dalle sue parole sembra quasi che ci sia stato un blackout tra la sua lista, il suo movimento Schittulli e gli altri partiti centrodestra. No, il movimento va avanti nel pieno rispetto della sua autonomia, della sua indipendenza, la collocazione a livello provinciale rimane nell'ambito del centrodestra, però in posizione del tutto autonoma. Poi ci sono delle situazioni particolari. Come per esempio Gravina, dove il movimento Schittulli ha deciso di ritirare la propria lista civica dai candidati perché è successo qualcosa, ci dica cosa con il PDL? Ma no, c'era una candidatura nuova, di un volto nuovo, di una persona per bene, di un alto dirigente della Prefettura di Bari, di Gravina, che aveva offerto la sua disponibilità a candidarsi a sindaco, essendo il progetto del centrodestra fallito con la caduta dell'On. Di Vella da sindaco in anteprima assoluta rispetto ai tempi prestabiliti, ci sembrava che fosse una candidatura da apprezzare anche perché proveniva dal mondo cattolico, una persona seria, una persona per bene, senza nulla togliere dagli altri. C'è stata una presa di posizione locale, mi auguro, molto determinata. A questo punto era inutile, noi vogliamo essere al servizio dei cittadini, non al servizio dei partiti o dell'interesse di Tizio e Cagli e Centroani. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Alessandra, sono Luigi. Salve, buonasera. Un saluto a te e un grande saluto al professor Schittulli, che più ascolto e più condivido le sue idee di uomo politico con un certo distacco dalla politica, che è quello che dovrebbero fare molti politici italiani, di non essere interessati alla politica per le loro storie o storielli, ma per essere a disposizione dei cittadini. E a questo punto io ancora una volta prego, fin dove è possibile che di sua competenza, di farci tornare a votare esprimendo il nostro voto nei riguardi della persona e non del pacchetto che il capopartito, il segretario, chi che si, mette a disposizione, perché in quel pacchetto ci saranno sempre i soliti nomi, quindi non ci sarà mai un rinnovo. Ringrazio e saluto molto voi per le bariche che ci date questa possibilità, il professor Schittulli e le sue idee molto pulite e molto tranquille. Grazie. Grazie per il suo intervento. Molto sane, visto che è anche un medico. Allora, presidente, come commenta?